Sì, è pronto? Sì, è stato l'assedio, sono il parco, mi hanno dato qualche d'una, vogliono sfondare la chiesa, vogliono sfondare la porta della chiesa, in via Canevari, numero? 34, c'è in corso guarito, c'è in corso guarito, c'è in corso guarito, c'è in corso guarito, c'è in via Canevari. Quale chiesa? Come si chiama la chiesa? La chiesa di 10.000 oscifissi, via Canevari. Come? Vogliono sfondare la porta della chiesa, mandate qualche d'una. Sì, come si chiama la chiesa? Via Canevari, 10.000 oscifissi, dietro Brignole. Stanno bruciando le macchine. Eh, lo so. Mandate qualche d'una, per cosa sia, qui è terrore. Va bene.